ciao buongiorno a tutti sono ennio mischi ciao sono gloriana compri da quattro anni pensionato recente e sono deciso di seguire il banco alimentare come volontario sono volontaria al banco alimentare da circa sette anni seguo in particolare le persone che vengono a fare i lavori socialmente utili mi occupo di preparare le bolle degli alimenti in uscita è un'esperienza altamente interessante soprattutto dal punto di vista umano mi trovo bene faccio anche quello che mi piace e quindi lo faccio più volentieri per me rimettere in gioco rimettermi in gioco personalmente rapporti di amicizia con alcuni anche abbastanza personale sebbene sia un rapporto che viene dieci minuti una volta al mese e il rapporto che viene instaurato con queste persone è altamente educativo soprattutto per me una signora anziana ormai a 84 85 anni mi dà sempre notizie su cose naturali ad esempio mi dà delle ricette per delle tisane mi racconta le cose caratteristiche di alcune erbe per poter stare meglio in salute oppure altre signore che arrivano e mi portano delle piantine grasse solo perché le coltivano e hanno capito che a me piacciono generalmente terminato il servizio come lavori socialmente utili le persone gli amici mi chiedono di poter proseguire la loro attività nel banco alimentare ma la cosa che è più sorprendente è che questo è stato fatto da un ex carcerato carcerato che era in fine pena è una cosa molto significativa che possiamo dire ci riempie d'orgoglio altre volte invece raccolgo delle confidenze che arrivano ad essere molto personali e noi ascoltando cerchiamo di sollevarli per quei cinque minuti che li ascoltiamo l'augurio che faccio ad ognuno di voi è quello di poter rincontrare come ho rincontrato io il banco alimentare perché il banco è un associazione molto grande e molto articolata quindi arrivi a fare il volontario nel posto giusto per te la cosa sorprendente è che voi avrete bisogno del banco alimentare per la vostra crescita e per il vostro percorso personale